Musica Noi crediamo tanto in questo camp, anche il centro ci offre un contesto magnifico, il centro è bellissimo Mi piace offrire la nostra passione per il basket, ma ci piace anche far scoprire ai ragazzi degli altri sport, delle altre attività Musica La nostra forza è anche il fatto di essere flessibili e di poterci adattare alle condizioni Musica Ci proviamo sempre, ci mettiamo sempre l'impegno e cerchiamo di dare il nostro massimo Musica